ciao io sono in viaggio non ho troppa voce perché in realtà ieri arrivava un'altra serata e oggi stiamo andando ad un'altra serata allora stiamo andando a caerano di san marco provincia di treviso prima data ai pork in veneto si può dire si può dire allora l'arrivo è previsto per le 18 e 30 al locale andiamo lì sistemiamo montiamo poi andiamo in albergo a sistemare montare si può dire adesso giusta facendo le sue cagate da videomaker luce fu è che deve andare forte un po meno mi piacerebbe che tu ora dicessi nel video di molfetta chi ha lasciato le chiavi della macchina un'ora di distanza non abbiamo le chiavi per entrare in stanza assolutamente non si sa mi piacerebbe che tu lo dicessi ok lo ammetto sono stato io ho lasciato le chiavi nell'altra macchina quindi per colpa mia tutto il team i pork ha dormito solo un'ora e mezza quella sera apprezzo il fatto che non me l'abbiano fatto pesare così tanto invece no bastardo la struttura ha soddisfatto le aspettative del nostro tour manager dobbiamo capire la camera il letto intanto si è comodo diciamo che è tosta io non so se farmi di test faccio un bomba molto basso ho toccato con il culo per terra ed è fredda alle ore ti aspetto come fredda è uno spritz pestato no non è altro di onde volco sembra uno spritz che ricordo un po molto vero è la base perché nove e mezzo un'ottima cena con un'ottima compagnia in una bellissima città che è monte bellune in provincia di treviso stiamo andando in discoteca finalmente ci siamo andiamo a fare il nostro show dai questo è il momento in cui entriamo effettivamente dentro il club sarà bello perché faremo l'interquiste ragazzi single ma non sei bravo non sei bravo come lui e quindi e quindi come i professori dell'ottilistra devi indicare a destra ma davvero? non l'avevo mai notato ma fa ancora più ridere allora venga venga Ciao ragazzi, ciao ragazzi! il prossimo disco Ambro ma finotte ora andate avanti alle 10 di mattina tu sarai l'ultima Ambro è il mio canne rocco è il mio sfondo abbiamo finito questa serata provincia di Treviso Cairano di San Marco potrei dire che è stata la nostra prima data che abbiamo fatto in Veneto è caldo il Veneto ma in realtà è un po' freschino serata molto bella vorrei tornare altre volte in Veneto non siamo rimasti chiusi fuori noi di solito cosa facciamo? ci troviamo tipo il giardino dell'hotel ci mettiamo a fare una sorta di meeting e diamo un voto alla serata facciamo team building team building team siamo noi building, costruire perché alla fine noi siamo questo anche parliamo di come ognuno di noi ha lavorato quindi Luca come sei stato stasera? questo l'hai fatto bene questo potevi farlo meglio Joe come hai lavorato stasera di tornare a telecamera? Ale come è stato il tuo lavoro logistico? questo l'hai fatto male questo l'hai fatto peggio noi siamo il team ai porc e ci siamo scordati di fare l'outro perché siamo degli idioti mua grazie grazie a En